tra gli edifici storici che compongono il grande complesso dell'ermitage c'è il palazzo d'inverno ex residenza della famiglia imperiale russa all'inizio del diciottesimo secolo quando era zarina elisabetta figlia di pietro il grande il palazzo era infestato dai topi che giravano indisturbati nelle cucine reali l'imperatrice emanò un ordine per trovare a kazan i migliori e i più grandi gatti in grado di catturare i topi immediatamente elisabetta fece sistemare i gatti nei semi interrati nei corridoi del palazzo per una lotta integrata alla crescente popolazione di topi il sistema si dimostrò efficacissimo e l'imperatrice decise di tenerli a palazzo in modo permanente quando l'ermitage divenne un museo pubblico i gatti rimasero per proteggere dai roditori le preziose collezioni dal 2007 la direzione ha iniziato ad adottare i gatti randaggi e oggi quelli che vivono all'ermitage sono circa una settantina che ogni tanto fanno una capatina anche nelle sale con le opere ne